Il gruppo consigliare del Partito Democratico ha ribadito questa mattina in conferenza stampa la propria posizione sul tema della caccia. I consiglieri Dino Pepe e Antonio Blasioli hanno criticato le scelte dell'attuale esecutivo regionale denunciando la mancanza di certezze sulla data di apertura della stagione venatoria. È proprio Pepe che ai nostri microfoni motiva le ragioni del giudizio negativo sull'operato dell'assessore Imprudente. Una bocciatura totale su tutta la linea da parte delle iniziative della giunta Marsilio Imprudente. Record di bocciature del calendario venatorio. Ad oggi gli altri 10.000 cacciatori non possono andare a caccia. Domani ci sarà il Tar che deciderà finalmente, ci auguriamo tutti, che la caccia possa ripartire il primo ottobre. Ma davvero quest'anno c'è stata tanta delusione all'interno del mondo venatorio dopo le bocciature e soprattutto le false promesse della giunta Marsilio. Il calendario venatorio è stato bocciato dal Tar, da Ispra, da Vinca e soprattutto tutte le vane promesse della giunta Marsilio Imprudente sono venute meno. L'apertura prima promessa il 1 settembre, poi il 15 settembre, tutte promesse che purtroppo non sono state mantenute. Ci auguriamo davvero che domani il Tar possa dare il via alla stagione venatoria anche in Abruzzo. Grazie a tutti.